è tornato tra noi, domicile 10 buonasera ragazzi buonasera buonasera e buon sabato ragazzi buon sabato allora raga io e Juventus Frosinone, altra vittoria insomma però insomma non è che ci abbia dato insomma grandissime emozioni questa Juventus Frosinone, insomma una partita a 99% scontata ragazzi assolutamente scontata infatti insomma è gollo non è che mi abbia mi abbia entusiasmato più di tanto la partita perché noi siamo con la testa altruve, siamo con la testa alla Champions League ragazzi vero obiettivo, ci stanno aspettando al Varco ragazzi ci stanno aspettando al Varco ed è giusto così perché quest'anno la Juventus dobbiamo dimostrare con il materiale che abbiamo di essere una squadra che può raggiungere la finale e di vincerla purtroppo ragazzi la Champions è una competizione un pochetto particolare fortunatamente sono rientrati anche Bonucci e Chiellini e ieri si è visto con buoni risultati anche se insomma il Frosinone non è stato niente di eccezione non è stato un test insomma probante un test insomma che poteva darci tante indicazioni insomma ce ne ha date alcune Cristiano Ronaldo la presenza di Cristiano Ronaldo ragazzi giova a tutti vedete che insomma che il gesto con Di Balla Siuuu Musk molto bella tra l'altro insomma è un legame è un gesto che lega ancora di più chi si parla di Di Balla i veri fari di talento della Juventus ma insomma ragazzi io onestamente parlando a me insomma mi emoziona il talento mi emoziona il modo di giocare mi emoziona veramente la fantasia però ragazzi a me per esempio i giocatori a me fanno innamorare tantissimo sono giocatori come Chiellini e Mandzukic e sono giocatori che nei loro rispettivi ruoli hanno veramente qualcosa in più rispetto agli altri hanno talento perché poi Mandzukic ragazzi ha una tecnica di base ottima secondo il mio punto di vista e poi a quello unisce anche il fatto di essere un gregario un gladiatore in mezzo al campo un gladiatore ragazzi è tipo un Cavani ragazzi quei sono giocatori che a me fanno veramente impazzire perché te li ritrovi in difesa e poi te li ritrovi anche a fare gol e quando ci sono loro sono gli equilibratori di una squadra il talento ripeto ragazzi mi piace tantissimo vederlo però ragazzi giocatori del genere tipo come Mandzukic ragazzi Cavani sono giocatori che sono rari perché uniscono due qualità la tecnica quindi essere bravi anche tecnicamente farsi trovare a posto giusto al momento giusto ma essere i primi a sacrificarsi ragazzi per la squadra e stavo dicendo comunque ci aspettano al varco ragazzi ed è giusto così l'unica scusa l'unica diciamo motivo per cui ci criticano ancora non aver vinto la Champions ragazzi perché è quello che gli dimane diciamo alle persone che criticano il lavoro di Allegri criticano il lavoro della squadra sì certo ragazzi a volte non giochiamo bene sono io il primo a dirlo però ragazzi da qui a criticarlo ogni qua a volte che voi siete prevenuti siete prevenuti e questo ci metto la mano sul fuoco che siete prevenuti voi e questo fa sì che comunque diciate sparlate a bambera quindi ragazzi l'ultimo passo che dobbiamo fare è la Champions League ma ragazzi sapete benissimo che non è semplice d'altronde il Real Madrid con tutti faccio un esempio il Real Madrid dopo tantissimi investimenti tantissime Champions fallimentari dal 2002 l'ultima volta che l'ha vinta prima del 2012 ci ha messo 10 anni dopo tantissimi investimenti quindi per farvi capire ragazzi la Champions è difficilissima però questo ovviamente non è una scusante dobbiamo giocarci le nostre partite come si deve poi insomma ragazzi se usciamo per un episodio è un conto però se usciamo perché non abbiamo dato il massimo è normale che lì c'è l'incazzatura del tifoso ci saranno critiche a non finire però ragazzi veramente quest'anno siamo attrezzati assolutamente assolutamente a vincere questa dannata Champions League che ci manca da 13 anni ragazzi sono 13 anni dal 96 e quindi dobbiamo assolutamente cercare di agguantarla in tutti i modi possibili perché ragazzi onestamente onestamente parlanti vogliamo dirla tutta seppure vincessimo la Champions giocando male io sono convintissimo che potessi grande Allegri grande quella che adesso lo stanno dicendo grande Allegri ci ha portato la Champions dopo 13 anni ragazzi ci sono convintissimi e non direste non direste abbiamo giocato male e questo sono convintissimo ragazzi perché in Champions contano i dettagli certo se uno unisce la vittoria al bel gioco come è stato in questi anni l'esempio del Barcellona insomma ragazzi rimane ancora di più nella leggenda però ragazzi già vincerla già vincerla ragazzi sarebbe qualcosa di eccezionale veramente ragazzi questo è il mio pensiero cioè io non è possibile questa notizia di notizia notizia di cazzo te la faccio fare da capa te la ho indietro la testa ragazzi non vi permettete Icardi alla Juve non esiste proprio non esiste non mi fate incazzare ragazzi ve la sono indietro la testa la scappata ma come fate a dire Icardi alla Juve si ma come fate a dire ma vi rendete conto che l'Eventus è una società seria ma giocatori di questo genere non durerebbero ragazzi la Juventus mi può fare anche 50 gol la Juventus ma che cazzo me ne frega a me che ha un comportamento di quel genere spacca spogliatoio che va sempre a bussare la porta alla società a chiedere sempre soldi lui è la moglie ma non ce li voglio proprio nella Juventus ragazzi non ce li voglio proprio che le sto leggendo di tutti i colori addirittura scambio di Balegardi ma che vi state bevendo ragazzi quale scambio di Balegardi ma non esiste proprio non esiste ragazzi li abbiamo due centrali c'è Mandzukic e c'è Cristiano Ronaldo ma non esiste proprio ragazzi toglietevelo dalla testa non fate questa cavolata non la fate ragazzi assolutamente è fuori dal mondo soprattutto per quello che poi lo andremo a pagare sicuramente adesso il pezzo di Cardi andrà a scendere perché ha fatto pochi gol non è che stia facendo una stagione disastrosa se vogliamo alcune partite sarei proprio viste poi il casino che è successo con l'Inter e l'Inter non può prendere tutti quei soldi assolutamente assolutamente io di Cardi non ce lo voglio ragazzi come persona non so parlare come giocatore è anche un bravissimo centramanti fa tantissimi gol affiuto del gol su questo non possiamo dire nulla però ragazzi come comportamento non è da Juventus e non è comportamento nemmeno di una società come l'Inter che è una grandissima società comunque a prescindere dalla rivalità o meno è una grandissima società del calcio italiano quindi è inutile dire queste cose toglietevele dalla testa ma che cazzo io voglio capire quella che dicono i Cardi sì i Cardi della Juve sì ma non esiste che cazzo dite ci voglio un giocatore anche di spessore comportamentale nonostante lasciando il lato tecnico cioè ragazzi fatemi sapere nei commenti se voi vorreste i Cardi cioè qual è la motivazione perché voi vorreste i Cardi alla Juve ma fatemela capire ragazzi fatemela capire fatemi sapere anche cosa ne pensate ovviamente cosa faremo contro l'Atletico Madrid quali sono le vostre sensazioni ragazzi le sensazioni mie sono un 50 e 50 ragazzi io credo che data sferta con l'Atletico Madrid ci dirà molto ci dirà molto delle nostre ambizioni sarà tutta una conseguenza il ritorno cioè se noi sbagliamo la partita dell'andato con l'Atletico Madrid sono sicuro che non passiamo ragazzi e là veramente ci saranno delle critiche ed è giusto poi criticare la squadra è giusto è giusto c'è poco da fare ragazzi come hai fatto degli investimenti tu minimo secondo me minimo l'evento deve arrivare in semifinale minimo e poi se esci per l'episodio insomma voi tifosi da strapazzo che vi parlo anche dei tifosi della Juve che vi attaccate sempre gli episodi arbitrali ora se stanno c'è la varra quindi non ci possiamo più lamentare non ci possiamo più lamentare quindi ragazzi in caso veramente di uscita agli ottavi di finale è giusto che piovano delle critiche giustissimo giustissimo quindi ragazzi veramente ora comincia il bello e spero veramente ragazzi che riusciva ad arrivare a quella gognata Champions League che ci manca veramente ragazzi obiettivamente da troppo tempo perché i tifosi delle altre squadre potranno confermare veramente che in tutti questi anni di programmazione programmazione societaria di vittoria ragazzi lo meriterebbe anche quindi ragazzi io vi saluto vi auguro ovviamente un buon sabato se tutto va bene ragazzi porteremo la la cronaca reaction live streaming di Atalanta Milan stasera giocherà davanti a Milan alle 20 e 30 se tutto va bene ragazzi vi avviserò tramite Facebook e tramite Instagram ragazzi mi raccomando cerchiamo di far crescere questa pagina Facebook siamo un po' bloccatucci ragazzi cerchiamo di arrivare a 200 in questa pagina la mia pagina Facebook domicilciypti ragazzi basta che scrivete su Facebook domicilc10 e mettete un bel mi piace ragazzi per supportarmi lì trovate tutte le mie novità pagina Instagram ragazzi domicilc-10 ragazzi ho tutti i link in descrizione facilissimo ragazzi per supportarmi seguitemi anche sugli altri miei social ragazzi mi raccomando però iscrivetevi anche al canale dobbiamo arrivare a 900 dobbiamo arrivare a 900 prossimo obiettivo 900 iscritti Il mio obiettivo ragazzi Minimo Minimo Dobbiamo arrivare ai mille Dobbiamo arrivare ai mille ragazzi E per fare ciò Vi dovete supportare ragazzi Spero che Il video mi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Condividete Con tutti I vostri amici Juventini e non Ragazzi fatemi sapere Cosa ne pensate Commentate Poi quando condividete Taggate i vostri amici Juventini e non Ovviamente Quindi ragazzi Io vi saluto Una buona giornata Alla vostra domic 10